Credo che l'esperienza internazionale che si acquisisce lavorando con grandi aziende sia molto importante perché sono delle competenze che la piccola media impresa non ha, ma anche proprio per ragioni di investimento e quindi poterle trasferire dando però naturalmente sempre un approccio molto pratico al mercato è qualcosa che ha un grandissimo valore aggiunto. La Camera di Commercio mi ha scelto prima di tutto per le mie competenze, mi ha scelto come ambasciatore culturale, mi piace dire, per mettere a disposizione tutte le mie conoscenze relative alla cultura locale per quanto riguarda il modo di fare affari, di interfacciarsi con le persone, con le aziende locali. La mentorship mi ha dato tantissimo, sono uno dei primi mentor della Camera di Commercio, ho iniziato 5 anni fa quando il programma era più piccolo, sono molto contento di poter dare indietro qualcosa al territorio, una forma di volontariato qualificato se vogliamo. Questa è una cosa che personalmente ritengo molto importante e che ho piacere a fare in maniera anche gratuita mettendo a servizio tutte le mie conoscenze, quindi c'è un beneficio reciproco. Il mentor sviluppa con l'azienda un rapporto decisamente amichevole, per di più è un rapporto che non è legato per forza a dei risultati quantificabili e quindi si trova, come giustamente deve fare un amico, a poter dire ciò che pensa e ciò che serve veramente all'azienda per poter essere aiutata. Si crea una relazione molto diretta tra il mentor e il mentee e ovviamente è una relazione protetta da segreto e di conseguenza noi possiamo intervenire in maniera molto più diretta nel dare supporto.